con il direttore sportivo di cuneo grandavolley gino primasso in questa splendida location di piazza galimberti dalle giostre insomma siamo sulle giostre un pochino quest'anno con cuneo grandavolley la gente che sale gente che scende l'ultimo a scendere è stato emanuele zanini un fulmine a ciel sereno oppure è una cosa insomma studiata no studiate guarda l'uno nell'altro mi spiace e cesare ma non è sicuramente studiata ma pensate a questo sicuramente abbiamo visto una squadra di difficoltà che faceva molta fatica a andare dietro i dettagli tecnici e di gestire la squadra da parte di zanini che devo in ogni caso ringraziare perché la sua professionalità e le sue capacità dal punto di vista tecnico non sono indiscutibili quindi ci mancherebbe il lavoro l'ha fatto ha preso la squadra che non aveva fatto lui quindi in corso insomma c'erano tutte le già le difficoltà di partenza poi alcuni infortuni importanti hanno ancora decimato la squadra quindi insomma le difficoltà ci sono state però proprio perché non vogliamo rimanere sulla giostra nel senso che per usare il tuo parallelo noi vogliamo dimostrare che non siamo una società che aspetta gli eventi e che si lascia scivolare addosso le cose ecco per zanini forse lo è stato però un po a fulmino perché un intervista ha detto io sono stupito e amareggiato non non aveva sentore di questo problema che ma sai probabilmente anche fra di noi intendo fra di noi società fra di noi ragazze e Emanuele e staff non c'è stata probabilmente se è col segno di poi si può anche dire magari la chiarezza che forse ci doveva essere ma le sensazioni che abbiamo avuto noi non è che sono state sensazioni poi così fuori dal mondo. Certo è che questa è una stagione complicata per Cuno Granda Valle perché in ordine di tempo se ne andate o perlomeno avete chiuso il rapporto con l'allenatore Pedulla, subito dopo se ne è andato l'amministratore delegato Borgna, poi se ne è andato il secondo Petruzzelli, poi se ne è andata anche Lidia Bonifazio però quantomeno ha lasciato l'incarico e adesso Zanini. Cosa c'è che non funziona? Ma no, è che tante volte le cose sono concatenate fra di loro anche quindi non è che le cose succedono così distaccate una da una situazione dall'altra quindi è evidente che questo è un anno difficilissimo sono cose che incidono, può succedere tutto ma se succedono tutte quante insieme chiaramente rendono molto difficile il cammino. In tutto questo si inciampa in situazioni che non hanno funzionato che non stanno funzionando e quindi che non funzionano e quindi bisogna trovare e porre il rimedio proprio perché vogliamo andare avanti e guardare al futuro. Ecco guardando al futuro credo a giorni dovreste annunciare l'arrivo di un nuovo allenatore sarà un allenatore che farà d'accollante a tutti questi problemi e che traghetterà uno o finalmente a una situazione più stabile. Questo è il programma? Naturalmente stiamo lavorando per avere un allenatore che non venga solo per finire la stagione ma che sia qualcosa di più, cioè qualcuno su cui puntare e con cui puntare alla prossima stagione perché questa società è solida che se ne dica perché ci sono stati anche dei tentativi dei pistaggi fatti per metterci in difficoltà anche dal punto di vista nostro organizzativo e di immagine. Concorderai con me che vista dall'esterno a un profano la prima immagine che viene è quella di una società scollata? Ma sì, le società si scollano e si incollano, nel senso che le società forti sono quelle che hanno un gruppo dirigenziale coeso che lavora per un unico scopo ed è esattamente quello che noi siamo in questo momento.